Il direttore dell'Aquafan, il signor Claudio Villa. Quello vivo! Quello vivo, vi ricorda che è assolutamente vietato durante il programma fare grigliate di pesce o mangiare pesce crudo, fatta alla sola eccezione per cozze, vongole, totani, sarraghi, capitoni, granchi, polipi, lucci, alici, pesce spada, tonno, lumache di mare, datteri e orate. Regola numero due. Per il terzo anno? A causa di un fatale equivoco, i bambini della colonia di Cesenatico, che finalmente erano riusciti ad essere con noi, questa mattina per passare il tempo, hanno fatto il bagno nel fiume Lento. Proprio il giorno in cui quest'ultimo era dibito a Vasca per la riproduzione dei piragna. No! Incredibile, a parte i 432 masticati e i 751 ormai quasi del tutto digeriti, la direzione è sicura che stanno tutti bene, si scusa per l'accaduto e invierà al più presto come risarcimento alle famiglie un abbonamento gratuito per il nuovo corso di pesca della De Agostini. La direzione di Radio DJ augura a tutti buon divertimento!